Addio al rientro anticipato e alla seduta messa in calendario prima della tradizionale inaugurazione della Fiera del Levante. L'ipotesi del Presidente Introne è naufragata nella riunione dei capigruppo. Troppe leggi richiedono riflessione, approfondimento e confronto emerso dal vertice in via Capruzzi. I partiti vogliono riappropriarsi di quel ruolo che si sentono scippati dalla giunta regionale, a partire dalla spinosa questione del piano paesaggistico contestato a destra e a sinistra. Di qui l'idea di rivedere a bocce ferme il testo dell'assessore Barbanente l'11 settembre. La vice presidente insieme ai tecnici illustrerà le nuove regole a tutela del paesaggio a tutti i consiglieri. Obiettivo metterli nelle condizioni di lavorare nelle commissioni per migliorare il piano e arricchirlo con le osservazioni di sindaci, ordini professionali e partenariato sociale alla luce anche dell'ulteriore prolungamento al 5 novembre del termine per la presentazione delle osservazioni. Ma la ripresa autunnale ricca di scadenze importanti a partire dalla riforma della legge elettorale passando per la norma salva tv ed editori regionali sulla quale introna ipotizza il finanziamento con fondi europei. Poi c'è il piano dei rifiuti regionali nonché una serie di altri provvedimenti che abbiamo preferito verso le commissioni impegnate perché il consiglio fosse chiamato ad approvarli in via definitiva. Quindi quando è stato aggiornato effettivamente la prima seduta utile di questo consiglio e quali sono gli impegni, le priorità? Penso che i due piani, quello per il paesaggistico e quello sui rifiuti sono piani che assumono una priorità assoluta.